è differente dal video giusto esatto l'effetto è proprio quello questa è la realtà virtuale fatta con un visore la piattaforma è stata fatta grazie alla tecnologia di street view inizialmente io ho realizzato queste fotografie in quanto sono un fotografo certificato per street view il servizio poi dopo è stato rielaborato per poter essere integrato con le altre chiese è possibile realizzare delle riprese che possono essere pubblicate direttamente su street view quindi voi stessi potete effettuare la mappatura del vostro territorio per documentare in questo caso una scena particolare che non sarà riproponibile in futuro successivamente c'è la possibilità di andare a creare invece dei tour come quello di cui stavate parlando del nera per rendere accessibile il percorso a persone che vogliono visitare l'area ma non hanno diciamo conoscenza di come è fatto il territorio che cosa te ne pare di questo strumento? eh? vedete questo è molto 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 divertente dove? che impressione ti fa? mamma mia cioè è bellissimo sapendo che poi non ci sarò più qui dentro così è una cosa andrebbe molto semplice che effetto fa? chiusissimo è molto strano ma non fa quello come è stata l'esperienza? è stata molto bella e trascendentale trascendentale? molto tanto grazie 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 a tutti.